Dunque, sono partita dicendo mi serve gestire un cliente per un'applicazione non esiste un tipo di dato cliente lo posso creare io in Java si crea utilizzando sempre il costrutto class quindi public class cliente e poi dentro ci metto tutte le variabili che definiscono le proprietà del cliente il tipo di dato è strutturato poiché all'interno c'è una struttura complessa quindi tutte queste variabili contribuiscono a formare al tipo di dato e vi ho fatto riflettere sul fatto che si può usare una classe o per creare un programma eseguibile oppure una libreria o anche solo un tipo di dato vabbè, poi ho parlato dei paradigmi e vi ho fatto vedere che in realtà questa non è proprio una novità quella di poter costruire tipi di dati perché anche altri linguaggi di programmazione non oggetti come il linguaggio C consentono di definire dei propri dati e qui c'è l'esempio un esempio della creazione di un tipo di dato alunno in Java, qua a destra in C e quindi se la programmazione oggetti rappresenta un'innovazione rispetto a un linguaggio tradizionale che seguono il paradigma procedurale come il C ci dovrà essere pur qualcosa di diverso e allora ho iniziato a elencare le cose che differiscono sono partita dai livelli di accesso diversamente da quanto si fa in un linguaggio come il linguaggio C nel linguaggio Java bisogna definire un livello di accesso per le variabili i livelli di accesso sono tre public, private e protected diciamo che se non viene specificato diversamente tutte le variabili all'interno di questo tipo di dato sono private, private e vi ho anche detto perché perché così si impedisce che dall'esterno qualche programma possa andare a modificarne il valore in maniera non opportuna inoltre vi ho anche detto che queste variabili che definiscono il tipo di dato la struttura del tipo di dato si chiamano variabili di istanza o anche attributi o anche proprietà il secondo concetto che fa parte della programmazione a oggetti è quello dell'incapsulamento perché insieme alla struttura del dato quindi alle variabili di istanza si definiscono anche le operazioni che su quel dato possono essere svolte e quindi non sarà possibile svolgere alcuna operazione su quel dato che non sia quella definita o quelle definite all'interno della classe allora questo ieri non l'ho detto ma pensate un po' cioè sempre riferendoci a non lo so, a un televisore e al telecomando diciamo che per poter astrarre dalla implementazione quindi dai dettagli implementativi dal modo in cui il televisore è realizzato eccetera eccetera si utilizza una interfaccia rappresentata dal telecomando che associa un simbolo a ogni operazione quindi sappiamo che la freccia la punta della freccia il triangolino insomma indica il volume oppure su un videogestratore puoi indicare la riproduzione sappiamo che c'è un particolare simbolo che indica lo spegnimento e l'accensione del dispositivo e così via quindi ci sono diciamo delle delle convenzioni che ci consentono di ormai di usare un qualunque dispositivo senza dover studiare un manuale ecco questo è più o meno il stesso principio si cerca di fornire una serie di operazioni già pronte dicendo solo come utilizzarle ma non spiegando esattamente come sono realizzate ma solo come le possiamo usare noi e questo è il motivo per cui si cerca di di definire non che si cerca si vanno a definire le operazioni del dato insieme alla sua struttura per consentire a chi vuole usare questo dato di non dover conoscere i dettagli di implementazione ma semplicemente avvalersi di questa interfaccia diciamo di utilizzo che è costituita nel caso delle classi dai metodi nel caso invece di un televisore dal telecomando per le classi i metodi quelli che sono public che costituiscono questa interfaccia per l'utilizzo comunque si capirà meglio andando avanti poi vi ho parlato di questa particolare parola chiave dis che viene chiamata oggetto implicito e che permette di fare riferimento all'oggetto che in quel momento si sta utilizzando per utilizzare il nuovo tipo di dato basta dichiarare una variabile di quel tipo esattamente come si fa per le variabili di tipo primitivo con una differenza però che non basta dichiarare la variabile ma bisogna anche crearla con l'operatore new creare con new significa andare a costruire la struttura interna di quel dato qualcuno mi ha chiesto ieri perché è perché se io creo una variabile un cliente di tipo cliente e poi voglio dare a questa variabile un valore come posso fare? non posso segnare direttamente un valore perché all'interno la struttura è complessa e non c'è solo una variabile con un valore a cui possiamo segnare la variabile stessa ma c'è una struttura e quindi bisogna andare prima a creare la struttura e poi si può andare ad assegnare alle variabili interne i valori che vogliamo allora la classe cliente è questa qui queste sono variabili di istanza avevo precisato per evitare confusione che non sono assolutamente variabili globali e lo si capisce proprio perché ogni volta che si crea una un oggetto cioè un'istanza della classe ossia un particolare cliente viene proprio creata un'area di memoria privata per quell'oggetto e quindi queste variabili nome cognome codice fiscale edirizzo età sono proprio variabili di istanza per questo che si chiamano così cioè sono le variabili private dell'istanza ieri vi ho fatto vedere che esistono due tipologie di metodi getter e setter io devo garantire che i programmi esterni non vadano a modificare queste variabili ma nello stesso tempo i programmi possono aver bisogno di leggere i valori contenuti in queste variabili e magari possono anche avere la necessità di modificare alcune di queste variabili quindi abbiamo visto i metodi get i metodi get sono tutti fatti in questo modo intanto restituiscono il valore di una variabile il loro nome è costituito dalla parola chiave get seguita dal nome della variabile che restituiscono quindi get nome restituisce a chi usa questa operazione questo metodo restituisce il valore della variabile nome e così via quindi nella dichiarazione del metodo che si chiama anche firma del metodo abbiamo la parola chiave public perché altrimenti se li mettiamo private non li può usare nessuno il tipo restituito che coincide con il tipo della variabile il nome del metodo non ci sono parametri quindi ci sono solo le parentesi tonda aperta e chiusa e un'unica istruzione all'interno che è un'istruzione return che restituisce la variabile i metodi set invece consentono di modificare il valore di una di queste variabili di istanza quindi la loro la struttura generale è questa sono metodi public non restituiscono alcunché cioè restituiscono void che vuol dire che non restituiscono un valore di fatti vedete che nel corpo di questi metodi non c'è l'istruzione return quindi quando non c'è return qua il tipo è void poi abbiamo il nome che è sempre formato dalla parola chiave set seguito dal nome della variabile che il metodo va a modificare i metodi set hanno sempre un parametro uno solo che è proprio la variabile che vanno il valore il nuovo valore della variabile che vanno poi a modificare quindi qui c'è sempre una variabile dello stesso tipo della variabile modificata quindi nome di tipo string il parametro è esattamente di tipo string poi per convenzione si utilizza anche lo stesso nome ma non è una cosa obbligatoria perché potrei anche mettere un nome diverso qui e funzionerebbe nello stesso modo però non si fa così convenzionalmente questi metodi hanno solo un'istruzione che assegna alla variabile distanza nome il valore del parametro formale nome e così anche per le altre variabili questo oggetto dis serve perché mi permette di distinguere tra nome variabile distanza quindi definita qua sopra e nome parametro formale senza il dis dis fa riferimento all'oggetto sul quale stiamo operando si capisce meglio se andiamo subito a vedere il metodo test metodo test e scusate il metodo la classe test che è un programma eseguibile che ho scritto per testare appunto il cliente e farvi vedere come funziona il tutto allora se voglio utilizzare questo tipo di dato per creare un cliente devo dichiarare una variabile di tipo cliente e adesso ho separato queste due operazioni anche se normalmente vengono scritte insieme per spiegarmi meglio quindi dichiarazione della variabile un cliente creazione della struttura di questa variabile quindi tutte le sue variabili interne poi con il metodo di set posso andare ad assegnare a questo dato questa istanza della classe cliente il nome giorgio e il cognome rossi e posso anche andare a modificare altri altri valori così come posso utilizzare il metodo di get per ottenere i valori contenuti nelle variabili se eseguo il codice si vede che qua quando stampo l'oggetto un cliente avrò nel nome il valore passato Giorgio nel cognome il valore passato Rossi il valore diciamo assegnato con il metodo di set mentre il codice fiscale l'indirizzo e l'età siccome non sono state inizializzate nessun valore assumono un valore di default il codice fiscale è una stringa e quindi assume il valore null di default così anche l'indirizzo mentre l'età che è un intero assume il valore zero quindi rispetto alle variabili locali che sono le variabili dichiarate all'interno di un metodo gli oggetti hanno sempre dei valori predefiniti nelle loro variabili di distanza che sono 0 o 0.0 per i numeri razionali e 0 per i numeri interi null per tutti gli oggetti comprese quindi le stringhe false per i booleani e basta e poi c'è in pratica lo 0 per il char perché il char nonostante sia un carattere viene comunque rappresentato come se fosse un numero intero questa è una variabile di tipo cliente così va in valetta non c'è niente di strano nel senso che così come usiamo il tipo int il tipo double il tipo boolean e il tipo string usiamo il tipo cliente così come posso scrivere int x e dare subito un valore posso farlo anche per il cliente solo che non assegnerò un valore ma dovrò scrivere quindi la scrittura alternativa a questa quella che vi dicevo è la seguente la metto come commento posso andare a definire la variabile un cliente di tipo cliente e subito andare a creare l'oggetto l'istanza solo che invece di assegnare un unico valore devo usare questa scrittura un po' particolare che mi crea quest'area di memoria con tutte le variabili oltretutto non ve l'ho fatto vedere ieri adesso posso farlo questi variabili hanno già un valore senza che glielo diamo noi ed è il valore di default quindi i valori di default sono per gli interi interi e tutti i multipli e sottomultipli degli interi il valore di default è 0 per i double e tutti i multipli e sottomultipli del double il valore predefinito è 0.0 per i booleani il valore predefinito è false poi abbiamo i char che poi abbiamo ancora gli oggetti gli oggetti hanno sempre come valore predefinito null e tra gli oggetti ci sono ovviamente le stringhe il tipo string si scrive con la maiuscola perché stringhe è una classe e quindi le variabili di tipo string sono oggetti e pertanto il valore di default è null quindi qua abbiamo il nome che ha valore iniziale null il cognome che ha valore iniziale di default null codice fiscale che è una stringa valore null indirizzo è una stringa valore null età ha valore 0 ieri sera vi ho fatto vedere anche questo metodo il metodo to string il metodo to string serve per poter stampare gli oggetti in questo modo se io non lo definisco guardate cosa succede quindi l'ho un attimo messo l'ho commentato vado di qua quando stampo questo un cliente guardate un po' vedete cosa viene fuori viene fuori il nome completo della classe chiocciola e poi un numero esadecimale questo dipende dal fatto che in java e comunque in generale nella programmazione oggetti tutte le classi derivano da una super classe che è la classe object la classe object è la appunto e voi immaginate che le classi di java sono disposte come in un albero come in una gerarchia no? la classe object sta in cima di fatti si dice che è la radice di questo albero se guardiamo i suoi metodi vediamo che c'è il metodo toString se vado a vedere anche la definizione di questo metodo mi dice che mi restituisce getClass.getName che è il nome completo della classe quello che abbiamo visto appunto prima questo qua seguito da una chiocciola eccola qua chiocciola e poi da un numero esadecimale che viene generato da una funzione hash cioè viene generato in modo casuale quindi da qui si capisce anche se io adesso non andrò a spiegarvi questo però vi faccio già un esempio di che cos'è l'ereditarietà in java se io cerco di stampare un oggetto se stampo un oggetto anche se non lo vado a scrivere è come se viene richiamato in automatico il metodo toString di questo oggetto su questo oggetto non l'ho scritto però perché è implicito quindi viene richiamato in automatico se lo scrivo funziona esattamente come se non lo scrivessi ora se quando richiamo questo metodo che cosa fa il compilatore va a vedere se nella classe di questo oggetto che è la classe cliente esiste un metodo toString va nella classe cliente e non lo trova perché questo adesso l'ho commentato quindi è invisibile non c'è non lo trova allora che cosa fa percorre questo albero di questa gerarchia di classi e va a vedere in tutte le superclassi di cliente se c'è un metodo toString da utilizzare perché le classi che stanno in questa gerarchia che stanno sotto in questa gerarchia ereditano delle classi che stanno sopra i metodi per cui si va a cercare nella superclasse della classe cliente ma la superclasse della classe cliente è solo una la classe object quindi siccome nella classe object esiste questo metodo e fa questa roba qua viene eseguito proprio questo metodo e lo vediamo qui quindi se vogliamo invece che venga stampato l'oggetto con tutte le sue variabili dobbiamo nella nostra classe definire il metodo toString e lo faremo per tutte le classi faremo sempre in questo modo il compilatore quando trova toString va a vedere se c'è nella classe cliente lo trova ed esegue questo non più quest'altro tant'è vero che se vado ad eseguire vedete che il risultato è differente quando io creo un cliente se non do a questo cliente dei valori quindi tolgo un attimo questa roba qua quando creo il cliente vedete tutti i suoi le sue variabili interne hanno dei valori di default che sono esattamente quelle che io ho messo qui questo metodo cliente si chiama costruttore di default quindi quando vado a scrivere questa cosa questo in rosso è un metodo cliente con le parentesi tonde è un metodo che si chiama costruttore di default costruisce l'oggetto il costruttore di default esiste sempre a meno che si vada a definire un costruttore on parametri o cosa vuol dire questo ma se io volessi creare invece un cliente assegnandoli già un certo nome un certo cognome un certo alcuni valori per queste variabili cosa dovrei fare devo definire io un costruttore per definire un costruttore devo quindi creare un metodo public che non restituisce nulla nemmeno void e che ha lo stesso nome della classe quindi i costruttori sono dei metodi particolari sono gli unici metodi che hanno il nome che inizia con la maiuscola perché il nome è uguale al nome della classe e poi come parametri hanno i parametri che voglio io per esempio se mi interessa creare un cliente e dargli subito il cognome e il nome quando scrivere string nome virgola string cognome e questo metodo quando mi crea l'oggetto andrà ad assegnare a this punto nome il nome passato come parametro e a this punto cognome il cognome passato come parametro vediamo la differenza nella classe cliente definisco il costruttore eccolo eccolo qua adesso con questo costruttore posso andare a creare un cliente ne creo un altro di cliente uguale new cliente e qua non metto più le parentesi senza parametri ma vado a specificare il nome e anche il cognome questo costruttore che cosa fa mi crea quindi l'oggetto con il cognome e il nome specificati poi lo posso andare a stampare e vi faccio notare anche un'altra cosa qua adesso mi da errore mi da errore perché guardate mi dice che il costruttore cliente è indefinito ma come prima funzionava adesso non funziona più ma io ve l'ho scritto il costruttore di default esiste sempre a meno che si vada a definire un costruttore con parametri appena definisco un costruttore con parametri il costruttore di default non esiste più ma io posso crearlo il costruttore che si comporta come il costruttore di default quindi non è il costruttore di default ma è il costruttore costruttore che si comporta come quello di default e se mi serve lo posso creare semplicemente così scrivendo public sempre lo stesso nome di costruttore perché il costruttore ha sempre il nome della classe quindi non posso cambiare nome e poi qua non metto parametri e poi apro e chiudo le parentesi grazie vogliamo provare quindi vado a definire anche un altro costruttore quindi qua posso dire che non esiste solo un costruttore ma ne esistono diversi costruttori il primo quello che è simile al costruttore di default e l'altro con parametri quindi se non ho intenzione di crearmi dei costruttori io uso quello di default nel momento in cui decido di creare un costruttore con parametri se mi interessa mantenere anche un costruttore che ha un comportamento come quello di default lo devo proprio scrivere io quindi adesso di qua non mi da più errore vedete mi crea se un cliente con tutti i valori di default e mi crea il cliente con i nomi con il nome mari il cognome rossi qua lo posso andare a stampare altro cliente vediamo cosa succede allora la prima la prima system.out .println mi stampa un cliente quando lascio il to string ma non ce n'è bisogno come potete capire lo tolgo da qui vedete che qui mi stampa il cliente con tutti i valori di default e quando vado a stampare quando mi faccio restituire con get nome il valore del nome mi da null ovviamente invece quando stampo altro cliente mi stampa il cliente con il nome Mario cognome rossi e tutti gli altri campi null ma posso creare un ulteriore costruttore che mi inizializza anche le altre variabili quindi il costruttore non solo crea la struttura dell'oggetto ma permette anche di assegnare alle variabili di istanza dei valori opportuni quando l'oggetto viene creato punto ho finito punto